No vabbè Ma lo puoi portare avanti sta palla Ma c'avi tutto il tempo c'avi Vieni a gioca Non gioco più Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN Avrete il 5% di sconto Bella vecchi trapani Siamo i GRAN E porca puttana mi sono oggi Ah no aspetta mi ha messo pure i bonus No guarda questo che c'ha Mi ha messo pure i bonus Guarda davanti che c'ha Una volta il centrocampo in su Ma pure la difesa tutto Perché non so forti dei loro C'hanno bisogno delle carte bonus aggiuntive Vabbè ragazzi era tipo una lotta questa Come fa a vincere questa partita? Non se può Non ho mai pensato Guarda questo che cappellate che fa Tanto segna comunque Perché c'ha culo Un buco stupido questo Ma che stai facendo? Ora fuori gioco Ora caccio d'angolo Guarda 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 che culo Guarda che culo Guarda che cazzo di culo Dai ma io non c'ho più credi Ma io non la faccio più Ma che cazzo di culo Ma che cazzo di culo Guarda che Perché non vanno mai a noi Vai ma forse la pietra e testo immobile Incredibile Non so come fare Che cazzo d'alla che fa Niente È loro Vai che buono Dove cazzo va Non te l'ho mai detto d'anno là Non te l'ho mai detto d'anno là Mai Mai detto No a noi non ci dice il culo come a lui È inutile I difensori suoi sono riattivi Riescono a spazzare un cazzo di pallone via Fallo Vecchino è tirato forti Non ho fatto parlo Non ci fa sottile Se vede che non ci arrivava No questo è proprio di script No 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 Cazzo Porca puttata Non entra in porta Ti conto Che cazzo è un po' di piatto C'è l'ho pensato proprio troppo No troppo tardi Schweinsteiger di merda Che non riesce a fa un passaggio Brizzolato viene a fa l'arbitro Che sta a pezzi C'era 80 anni Cristo Dio Solo capelli bianchi Quello grigi Dai È un nano quel coglione Di che coso Come cazzo si chiama Di Maria Non è tanto nano Però uno è 70 Cioè Schweinsteiger mi sa che è un attimino più grosso Ma pure di fisico Cioè Non dico soltanto di testa Di cazzo Oprepolo Ponee No No Non è fuori gioco Dai Cazzo Io ho fatto il voluto Che tutto io stavo in fuori gioco Perché è stato all'altro Mamma mia Di Cristo Porco due Non ho fatto il palonetto Allora Vabbè 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Esagerato Occhio È gozze Non so ma stavo nel momento buono Ma è gozze Poraccio Fai spaccare una gamba Ti va per dire da là Vabbè È gozze Ma ce l'ho detto Vabbè Ma non senti C'è un tiro dalla madonna Perché? Ma gozze c'ha il tirito invece C'ha il tirito con un raso d'era preciso Che? Che? Vabbè Vabbè Inoltre Ok Tranquillo Vabbè 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 Non ne azzeca uno È impressionante Aia 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 Mamma mia Vai Vabbè 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 Ah, se mori qua a Bameyang, io ti ripeto, cioè... Fossi in tema andrei a vedere tutti i video indietro o cosa... Guarda, sì, lo so, rimettiamo Bameyang o Shaqiri Perché almeno tu sai che l'ha la sbaglia Tu lo sai, ne sei consapevole già Eh, non lo fa però Lo vedi? Mamma mia Perché la passa dritta, sto minore? Mamma mia, ho smarti due dieci anni di vita Morirò a novant'anni invece che a cento Ah, perché tu già sapevi... Ah, mamma mia, puzza dei shampoo di qualche vista, allora, sto lutto Strano, eh? E' buona Grande, guarda, 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 allora, se sta fico a Bomeyang, sapevi che non segnali Beh, ma come cazzo ha fatto a piove quel palo? Ma che cazzo ne so? Ma tutti i pali stanno piove oggi Mamma mia che entrata Che cos'è? Che non c'è arrivato? No, vabbè, no, vabbè Ma quello che fa, è un po' quel limite di ridicolo, comunque Ma infatti lo dò da Scheinsteiger Vabbè Caputtano, mamma mia, la prigia Cazzo vabbè Oddio, e che cazzo da tu, di arocena, cazzo a mano No, no No, vabbè, da lui E che cazzo è successo il giorno? Non mi capire che ho poi il giorno Eh Vabbè 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 mara arroba per l'arte del tetto da me un bel mondo non gioco più sono detto che non si può fare non è vero c'è perché la sbagliata non è che non so davanti a barba mara e non so avanti a barba o meglio comunque dall'altile del tempo apporto non puoi dirla fuori c'è un possibile la impossibile lavori e chiamate da vendita ma così cazzo guarda, 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 guarda oh, oddio, mamma, come ho fatto? illusione del gol ma quando è entrato Suarez? ma chi è entrato? questo è entrato così, tipo cacero si, ma cazzo, ma che cazzo dei giocatori c'ha? pure le riserve sono così uno, due no ah, no, era per questo porca droga guardateli, cazzate, guardateli, cazzate, guardateli, cazzate, guardateli, cazzate no, papà porco tu, va bene, va bene io ti chiedo un minimo di agilità, ma un minimo, eh del dallo subito no, no no, no io ben cazzo, io ben cazzo, porca puttana porca puttana cioè, porco dio porca puttana, porca io lo sapevo che dappi così cioè, siamo maniati 3.000 gol io proprio credo, guarda e accialla madonna non, 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 non ci procediamo pure, non ci procediamo ci vediamo domani, dai bello